Questo è il comune di Amalfi, un disabile deve votare in una casa privata dove non si è mai vista, da mondo a mondo. Ecco il comune di Amalfi, una casa privata. Chissà se c'è il permesso, il prefetto di Amalfi l'ha dato, di Salerno. Ecco qui. Questa è la situazione, mia moglie deve votare in braccio il mio figlio, ecco qua. La vergogna del comune di Amalfi, del sindaco Milano, del vice sindaco, eccoci qua, stiamo qua, in una casa privata. Se questo è il modo di far votare la gente a dove, ditemelo voi. Fatemi capire se questo è il modo che una persona deve votare. In una casa privata, per fare piacere a chi, il comodo a chi, ecco i disabili come devono votare a Tugare.